Il suo telefono è sempre Tarek. Tu devi più andare questa volta, ok? E ti devi registrare, registrarti i besti per fare voi. Tu so che ti sei portato, ti fatti queste cose. Mi passi mia figlia? Non ti ho portato niente questa volta. Il telefono è di mia figlia. Tuo figlia è morto, va bene? Cosa? Ripeti. Cosa? Cosa? Non è un uomo che parla, non è. Cioè, mi fai schifo a parlare con te, non sai? Hai schifo a tutta, Tarek? No, fai schifo a tu. E lo giuro, so tio, fai schifo a tu, sai? Perché da noi non esiste la donna che parla. Da noi esiste un uomo che parla. E quando dici una parola a un uomo, così lì la posso, no? Mi aggierai tu, no? Non devi aggierare il sangue, lo sai? Passami mia figlia. Che passo sto cazzo, questa volta? Non fa ancora, sai cosa farò questa volta? Per l'Argelica. Lei, l'Argelica, buono, non fa il suo, ma mi è passata. Questa volta, io non lo lascio da fare questa volta, va bene? Tu devi avanzare e farmi un cuore questa volta, non fai? Lo capisci ancora? Non capisco, perché questo linguaggio io non lo capisco, Tarek. Lo capisci? Capierai prima o poi. Tanto capierai poi. Ok? Mancano più di me. Non stanno. Dopo piangerai, salto. fluidamente prendeцо. No c'è credo.